non aspetteremo l'arrivo della primavera o l'inizio dell'estate per arrivare a dire oddio non ho niente da vestire per non arrivare a questo punto iniziamo a lavorare oggi su un tema particolare sapete che poco fa abbiamo fatto una serie di solabito multifunzionale vi abbiamo fatto vedere come lavorare con lo spacco come lavorare il bordo inferiore della fodera e la parte più interessante di quell'abito sono stati proprio i coletti il giacchino sopra inoltre ci sarà anche il corso del pantalone a telato per questo motivo oggi torniamo al tema della camicetta leggera vi avevo già anticipato che nel futuro inizieremo ad occuparsi di modelli un pochino più elaborate più complicati quindi oggi iniziamo a lavorare su questa camicetta abbiamo questo tessuto guardate che bel tessuto molto molto leggero non si sente alcun peso 50% e seta 50% e cotone guardate quanto leggero e bello la camicetta sarà leggera e cadrà libertà mente come una tunica adesso mettiamo da parte il tessuto e iniziamo lavorare sulla modellistica guardiamo attentamente lo schizzo ecco la nostra camicetta questo è il davanti e questo è il dietro la lunghezza dall'inizio della spalla davanti in questo caso è di 75 centimetri questa lunghezza me la immagino io è una lunghezza teorica potrebbe essere 72 73 ma per il momento otteniamo 75 con 5 centimetri per l'orlo quindi sono 80 centimetri in totale poi abbiamo la manica raglan forse avete già visto il tutorial per la modellistica della manica raglan se no adesso facciamo vedere di nuovo come si fa andiamo avanti forse qualcuno preferisce fare un polsino una pieghetta io per quanto mi riguarda non riesco a sopportare niente che mi stringe in questa parte della manica parlo per me ognuno fa la sua scelta io non posso mi muovo veloce coro sempre muovo le mani ho bisogno di avere le maniche che mi diano la libertà nei movimenti questa per me è una condizione obbligatoria chi invece è abituato a chi piace il polsino certo che lo può fare cosa abbiamo qui di interessante guardate la camicetta si chiude con piccoli bottoncini e poi va in su e arriva un coletto rialzato tipo alla coreana ma con una particolarità non come nelle camicette classiche di solito quando abbiamo la chiusura con i bottoncini il cannoncino va dritto fino in su e poi si attacca il coletto nel nostro caso abbiamo il cannoncino che si apre leggermente andando in su e arriva allo scolo con un'apertura di circa 5 centimetri così il nostro coletto avrà le due parti finali che non si toccano ma saranno a 5 centimetri di distanza in questo modo abbiamo la camicia che si apre da sé e non serve farlo da solo poi abbiamo 43 centimetri dall'inizio del colo fino alla vita abbiamo un taleo in vita e abbiamo 4 pieghe a destra e 4 a sinistra le pieghe sono di 0 5 centimetri ciascuna abbiamo già imparato come farle ma le rifaremo di nuovo forse saranno una lunghezza di 10 centimetri poi continueranno in pieghioline ci saranno 4 centimetri da una parte 4 dall'altra dietro abbiamo lo stesso motivo 6 pieghe cioè significa che aggiungiamo 6 centimetri in larghezza la lunghezza delle pieghe cucite arriva tra le scalpole e la vita in questo modo danno ulteriore libertà il coletto è un semplice coletto rialzato un'altra cosa interessante di questa camicetta la parte davanti della manica passando dallo scolo dal centro davanti dal taglio alla vita e fino alla parte laterale è in doppio tessuto cioè le due parti superiori davanti sono in doppio tessuto tutto il resto della camicia è normale questa decisione è per facilitarci in quanto scegliamo cosa mettere sotto così siamo più tranquille che non traspare nulla e che non si vede il colore se leggermente diverso del nostro intimo sotto penso di indossare un paio di pantaloni fino a sopra la caviglia tipo alla capri cioè nel senso la parte davanti sopra sarà in doppio strato tessuto iniziamo la modellistica davanti a me è la mia base corpino fatto con il sistema delle dieci misure voi potete utilizzare la vostra base di fiducia quello che usate sempre la mia base non cambia mai perché non cambio io se non avete una base potete acquistare la nostra nei commenti sotto il video c'è il link del nostro corso la base con il cartamodello finito non è una camicia non è una giacca e non è un capo è una base io ancora ancora vi insegnerò come utilizzare questa base per fare diversi modelli come imparare a fare la modellistica partendo da questa base iniziamo mettiamo la parte da parte la nostra base lavoriamo con la coppia che abbiamo ricalcato guardate cosa ho fatto subito approfondisco la parte inferiore del giro manica di un pochino più di un centimetro diciamo 15 13 si toglie solo in profondità non in larghezza ecco questa è la mia base e si vede come quanto sono andata in profondità voi fate la stessa cosa ecco qui la nostra manica l'avevo già preparata prima e quella della base ed è già tagliata in lunghezza così come la vorrei anche la manica va scavata un pochino ecco vi faccio vedere come oggi con voi lavoriamo con la manica raglanz vi svelerò alcuni segreti perché ci sono alcune trappole nelle quali possiamo cadere quando cuociamo questo tipo di manica ecco qui tolgo un po' dal dietro attenzione guardate qui la parte davanti della manica deve essere scavata un pochino di più avevo già tolto prima ma adesso cerco di dare una bella forma rotonda guardate i pezzetti tagliati e quello che ho tolto ho scavato ancora un pochino fatelo anche voi non non abbiate paura se tolete troppo poco poi avrete problemi quando attaccate la manica alla base dovete stare attenti a questa parte deve essere bella rotonda succede che tale tale il reglan e qui c'è sotto una punta perché non ha rotondato bene e si chiede come si può attaccare la manica se tagliate il raglan e si perde la rotondità poi avrete dei problemi ecco perché dobbiamo stare attenti a fare il giro la manica sotto bello tondo quindi abbiamo scavato un po la base abbiamo scavato la manica adesso diamo attenzione allo scolo dietro dalla parte della spalla toliamo un centimetro mentre dal centro dietro toliamo 05 anche davanti toliamo un centimetro dalla parte della spalla e dal centro così il colletto non mi arriva proprio attaccato al collo qui vorrei dire una cosa faccio sempre un'osservazione quando si fa un capo per me oppure per altre persone stare sempre attenti a questa parte davanti e dietro dello scolo che cosa succede il cliente si mette il capo alla prima prova forse tutto è fatto a perfezione è il tessuto è bellissimo cade benissimo li sta benissimo tutto perfetto ma soffoca il colletto è un'emozione talmente negativa che quando mi guardo allo specchio non mi piace nulla quindi quando provate per la prima volta e quando fate provare un cliente state attenti che lo scolo è giusto e non deve essere stretto perché si arriva subito a un'emozione negativa e di conseguenza non piace anche il resto io per esempio in questo caso voglio subito togliere il capo e mi passa la voglia di provare e probabilmente tutto il resto andava benissimo quindi per favore state molto attenti a questo particolare è molto importante perché rischiate di avere un effetto negativo il contrario di quello che vi aspettate bene iniziamo a tagliare il nostro carta modello ma prima disegniamo la linea del taglio in vita come da schizzo sono 43 centimetri dall'inizio della spalla il risultato è un pochino più lungo della linea vita poi avremo le nostre piegoline all'altezza della pancia che ci daranno più libertà possiamo anche fare la linea un pochino più alta è anche 42 centimetri il dietro non ha questo taglio solo il davanti ecco qui e scriviamo centro davanti perché qui tagliamo quindi scrivo anche sopra centro davanti linea vita centro dietro cos'altro dobbiamo scrivere scrivere tutto eh qui il sormonto nel mio caso sono 2,5 centimetri dal centro davanti fino alla margine abbottonatura tutti voi dovrete vedere il tutorial della chiusura davanti cioè delle abbottonature appena arriva guardatelo sono fiera di questo tutorial perché è molto utile molte volte lo ripeto non avete idea di quanto tempo dedicato a cercare in una marea di libri per fare un testo chiaro breve e non complicato e per fare un tutorial facile da seguire torniamo noi qui abbiamo la parte del sormonto per la bottonatura diciamo 3 centimetri più 0 5 0 7 per la cucitura per non prendere 1 e 7 qui io prendo 2 e 5 di cui 0 5 0 7 andranno per la cucitura e 1 7 rimane per la bottonatura quindi non dovete aggiungere margine cucitura è importante perché è già stato aggiunto in quei 2,5 centimetri adesso prima di tagliare dobbiamo costruire la forma dell'apertura davanti come dal nostro disegno se l'apertura davanti alla base del collo deve essere 5 centimetri vuol dire che dobbiamo tagliare 2,5 centimetri dal centro davanti per sicurezza io taglio 2 ho paura di tagliare sempre troppo e scegliamo il punto per la profondità e disegniamo la forma se poi vogliamo farlo più profondo si può sempre tagliare e intanto facciamo così avete capito sì qui il cannoncino è modelato che si apre così e va fino al colo e in questo punto si unisce al coleto avete capito spero ma lo vedrete dopo vorrei tanto che voi non abbiate paura della modelistica all'inizio all'inizio c'erano tantissime domande abbiamo comprato la base e adesso cosa facciamo io ho dovuto ripetere ripetere che la base non è il cartamodello finito di un capo è solo una base una base con la quale si deve lavorare per arrivare al cartamodello del capo desiderato vedete qui sul centro dietro la mia base leggermente scavata all'altezza della vita nel nostro caso qui ci saranno le pieghe quindi disegniamo una linea dritta ecco il disegno dietro non abbiamo cucitura ci saranno solo queste pieghe cucite fino a un certo punto che poi diventano pieghioline avremo un capo comodo con una piccola larghezza aggiunta quindi non c'è la cucitura al centro dietro e tagliamo il cartamodello dritto questa parte del cartamodello sono le pieghe aggiungiamo tre centimetri poi sulla stoffa dopo quando inizieremo a lavorare sul tessuto vi fare vedere tutto ho già una gran voglia di questa che questa camicetta entri nel mio armadio con voi creeremo un guardaroba non di uno o due capi separati ma di capi che si completano uno con l'altro sopra questa camicetta si può mettere benissimo un cardigan ad esempio dopo penseremo a cos'altro andrebbe bene ad abbinare capiremo dopo quando l'avremo addosso bene per adesso taglio il cartamodello stiamo per finire il nostro lavoro ci manca poco ci manca costruire la manica raglan adesso tagliamo nella linea vita questa è la parte che sarà fatta in doppio tessuto certo abbiamo da lavorare un pochino ancora dobbiamo trasferire le pens dobbiamo costruire il raglan e così via ecco abbiamo la nostra parte dietro abbiamo il davanti abbiamo la nostra manica la la voglio larga la voglio larga anche all'altezza del gomito in breve dalla manica reglan ho già parlato ma parleremo di nuovo chi ha visto il primo video sa già adesso parlo anche per chi non l'ha visto da noi arrivano clienti dicono io non mi metto mai capi con manica reglan tutto quello che ho comprato finora con questo tipo di manica non mi sta bene e non mi trovo e così via c'è pareri così e io rispondo possiamo provare un capo credetemi una volta che le abbiamo fatto un capo con manica reglan non vogliono più altro tipo di manica perché è una manica molto comoda e molto bella da vedere abbellisce il capo non rovina mai la forma delle spalle né allarga né diminuisce le spalle è un tipo di manica molto bello ecco perché dobbiamo fare in modo di innamorarci di questo tipo di manica almeno questo è il mio pensiero abbiamo quasi finito la modellistica della nostra leggera camicetta tunica che indosseremo con un paio di pantaloni la nostra camicetta ha una manica raglan alle piegoline alle taschine la bottonatura vorrei dirvi che andando avanti solo con questa camicia vedremo alcuni temi che conoscete già molto importante manica raglan a bottonatura pieghe cucite sono temi che conosciamo già e andiamo andando avanti nei nostri capi inizieremo a vedere anche temi più complicati quindi ci aspetta tanto lavoro per oggi vi saluto con voi sono stati pauscheri mihalovna e tutto il nostro team alla prossima con parte seconda vi auguro tante belle cose ciao